Ciao a tutti sono Mark di GameSoul e oggi vi porto ancora in Destiny per capire come ottenere il fucile a impulso esotico senza tempo per spiegare, che in pratica sarebbe la versione ultra potenziata del fucile dell'ignota, praticamente mai usato dai giocatori vista la sua scarsa utilità alla fine della storia. Grazie però all'evoluzione fino a diventare esotica, quest'arma è ora una delle più interessanti nell'arsenale, specialmente grazie alla sua perk e nuovo rewind che permette ai colpi precisi di tornare immediatamente nel caricatore. Insomma se state sparando ad un boss il flusso di proiettili è praticamente infinito. Ad ogni modo il primo step per cominciare questa impresa è aver completato la parte segreta della missione eroica giornaliera Paradosso, quindi dovete per forza stare attenti ogni giorno a quale missione venne scelta. Io ho avuto la fortuna di poter ripetere questa missione al momento in cui ho deciso di fare questa guida, quindi ecco il procedimento. Ricordatevi di non morire assolutamente nelle zone di oscurità altrimenti dovrete ricominciare da capo. Consiglio anche di non morire in generale prima di aver raccolto tutti e tre gli spettri, così per sicurezza. Radunate due amici se volete essere ancora più protetti ma sappiate che il tutto può essere facilmente eseguito da soli con un minimo di 280-285 punti luce circa. Oltre ad una sana dose di spara spara bisogna intraprendere un po' di platforming per raggiungere tre spettri e rianimarli. Il primo si trova poco dopo l'entrata nella volta di vetro. Basta arrivare dove di solito si trova la prima cesta dell'incursione, mettersi spalle al dirupo e lasciarsi cadere fino a questa piccola rientranza. Andando avanti sulla destra possiamo trovare il primo spettro. Vi lascio qua velocizzato tutto il percorso poiché è facile perdersi oppure non riuscire a capire dove andare. La bussola vi segna infatti una direzione superficiale raggiungibile solo facendo un largo giro attorno alla struttura di metallo. State bene attenti a non cadere altrimenti dovrete ripartire da capo e raccogliere nuovamente il primo spettro. Alla fine arriverete su questa piattaforma di roccia che vi condurrà ad una sporgenza dove potete raggiungere il luogo di combattimento del templare. Dopo aver sconfitto tutti i corrotti non andate nella direzione dell'indicatore ma recatevi a sinistra nella stanza usata solitamente per nascondersi durante l'incursione. Qui c'è un'apertura dove gettarsi e più avanti precisamente dopo il primo grande salto verso il basso noterete questo pilastro illuminato. Non bisogna andare oltre ma saltarci sopra. Poco avanti infatti sulla sinistra troverete il secondo spettro. Potete ora progredire nella missione fino all'uccisione dell'enorme idra corrotta ma non andate assolutamente a cercare i cadavri di Predit. Se lo fate la missione sarà conclusa e non potrete più accedere alla sezione segreta. Piuttosto ritornate al punto di inizio del labirinto per orientarvi e dirigervi verso la piccola caverna che porta alla volta di vetro. Per chi come me nonostante le svariate incursioni non sappia ancora come arrivarci da solo, ecco la strada da seguire. Conclusa la parte del tunnel arriverete a quella delle piattaforme che si materializzano e smaterializzano. Guardate verso sinistra e vedrete una piccola sporgenza sulla quale atterrare. Dopo aver percorso il piccolo tratto di caverna sarete su un'altra sporgenza da cui cadere fino ad una piattaforma molto più in basso rispetto a voi. Rivolgetevi dunque verso la parete rocciosa e vedrete una piccola rientranza con uno spettro all'interno. Se avete fatto tutto come previsto, voltandovi indietro cominceranno ad apparire le classiche piattaforme VEX che vi porteranno verso un portale a sinistra. Il tempo di spawn di queste piattaforme è particolarmente veloce quindi dovrete essere molto agili nel platforming, da cui però potete anche lasciare da parte la paura di morire. In caso di caduta verrete portati sullo spiazzo iniziale e potrete continuare a saltare come volete. Raggiunto il portale verrete teletrasportati nella classica volta di vetro, pesantemente provata dall'assenza di Ation che a quanto pare si occupava anche di puotare tutte le piante prima che i guardiani arrivassero a disintegrarlo. Sono i corrotti ora come andare però. Dopo averli sconfitti, finalmente avrete davanti il boss finale. È una lotta fattibile da soli ma potrebbe far displecare tempo in quanto i nemici non sono poi così pericolosi, ma i goblin continueranno ad alzare i loro scudi sul capo rendendoli immune ai vostri attacchi. Se dunque una persona si può occupare del boss direttamente, gli altri dovrebbero tenere a bada i goblin per evitare che interferiscano. Comunque vada, alla fine si aprirà la porta della volta di vetro per portarvi di una chest, che contiene il tanto ricercato spettro di Predit, appartenente al culto guerra futura. Sì, tutto questo casino per uno spettro che vi permetterà di attivare l'impresa, dato che ufficialmente non è ancora iniziata. Ora, qui non ho ricevuto nessuno spettro perché ho già completato tutta l'impresa precedentemente, infatti durante questa guida ho sempre avuto in mano il senzatempo per spiegare. Lo spettro viene infatti droppato solo una volta per ogni personaggio. Perdonatemi ma mi ero completamente dimenticato di registrare la prefazione prima dell'impresa, quindi ho dovuto sperare che questa missione eroica tornasse disponibile. Ad ogni modo, eccomi sulla torre col mio spettro, tornato indietro nel tempo, proprio come un paradosso temporale Vex. Bisogna ora parlare con Lakshmi, la venditrice ex del culto guerra futura che vi strapperà lo spettro dalle mani e vi consentirà di unirvi alla sua fazione, cosa che dovrete assolutamente fare prima di procedere. Come vedete l'impresa non è stata ancora sbloccata, ma non allarmatevi. Serve infatti che paradosso non sia più la missione eroica del giorno. Basta dunque aspettare un giorno e sarà Lakshmi stessa a chiamarvi con un classico target verde sulla torre. Per adesso è tutto, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi se vi è piaciuto il video. Continueremo presto con i prossimi step dell'impresa. Adios!